Saluti, ben trovati qui dalla chiesa del Gesù Nuovo per la festa dedicata a San Giuseppe dal 9 a 14 lunedì 16 novembre. Come sovrentini siamo qua con una doppia valenza sia per l'omaggio a San Giuseppe Moscati nella chiesa grande di Gesù e sia per... qui è custodito il quadro della Madonna di Casarlana, quello circondato da un'aurea leggenda in cui i turchi lo sfregiarono con colpi di cività. Un altare di San Giuseppe Moscati.